Allora, ringrazio ancora perché penso che sia veramente fantastico trovarci insieme, parlare di queste cose e ognuno quando riesce a condividere qualcosa e a ricevere qualcosa, cioè lo scopo di questi eventi è raggiunto. Quello di cui volevo parlare oggi era Wikidata. Wikidata non è una cosa così pop, è una cosa abbastanza, insomma, trovare contributori di questo progetto non è così frequente però appena uno lo scopre, questo progetto si innamora immediatamente perché è veramente una cosa pazzesca. Quindi vedremo in questi pochi minuti insieme una breve parte su che cosa sia, che cosa diavolo sia questo progetto perché sia nato, quale problema risolve, come contribuire, come estrarre dati da questa roba. Io sono Valerio insieme ad Alessandro Rubini che era il cuoco, sono nel direttivo di Italian Inox Society che è l'associazione di volontariato che si occupa di promuovere software libero e open source in Italia e quindi ci vediamo anche il 22 ottobre nella vostra città, se si organizza Linux Day fisicamente mi sembrava anche un buon follow up per ricordare che il software libero non finirà mai in questa conferenza annuale. Andiamo avanti. Cos'è Wikidata? Wikidata intanto è un sito, quindi wikidata.org uno lo visita e trova il suo sito però di per sé è un sito particolare, intanto come tutti i progetti Wikimedia, quindi come Wikipedia lo chiamiamo progetto aperto o libero, nel senso che ha una definizione precisa che conosciamo in questo caso Wikidata rilascia i suoi contenuti in pubblico dominio, punto per quello lo chiamiamo che è molto libero, nel senso che puoi fare praticamente quello che vuoi con questi dati e Wikidata è un database sulla conoscenza, quindi vuol dire che cerchiamo di raccogliere in Wikidata ogni informazione riguardante ogni soggetto abbastanza importante o concetto per esempio quanto sia alto il monte Everest è un'ottima informazione che io metterei su Wikidata i numeri sono spaventosi, purtroppo non si vede qui ma in questo momento ci sono negli ultimi 30 giorni 22.000 utenti attivi nel progetto e in questo momento siamo arrivati a 1 miliardo e 700 milioni di modifiche e il fatto che lo chiamiamo progetto multilingua significa che è veramente multilingua e supportiamo un buon numero di lingue e dialetti fra cui il veneto o il latino, così come tutti conosciamo il fatto che anche in Wikipedia esiste la community veneta che si occupa di scrivere l'enciclopedia in questa lingua ma anche ovviamente la comunità che parla in inglese si occupa di scrivere un'enciclopedia nella sua lingua il problema è che ci si ritrova in moltissime community separate, ognuno che si occupa di scrivere un'enciclopedia nella sua lingua e quindi si arriva al problema in cui i dati, prima che nascesse Wikidata, erano letteralmente sparsi in ogni singolo progetto quindi ogni singola community andava su Wikipedia in Veneto e modificava la voce e inseriva che il monte Everest era alto 8.000 metri stessa cosa la community di Wikipedia in Veneto, perché vi assicuro che c'è una community di Wikipedia che scrive in Veneto e stessa cosa per Wikipedia in arabo, in lingua cinese, eccetera, eccetera, eccetera quindi capiamo insieme il problema e la risoluzione di questo problema da parte di Wikidata cioè se voi andate su la lingua inglese della voce Monte Everest vedete la linguetta sopra, 198 lingue quindi questa voce ha una presenza in 198 community e in 198 lingue e quel dato lì, prima di Wikidata, appunto era messo, sparso nel testo proprio della pagina questo è un esempio di quando si prema il tasto modifica su Wikipedia ti viene fuori il testo ed è proprio testo libero cioè scrivi dentro il numero e deve essere corretto, metti le fonti, eccetera quindi arriviamo a Wikidata, così è come si presenta un elemento in questo database quindi questa è una pagina web ed è la pagina web con la scheda dei dati sul Monte Everest e già notiamo la differenza con Wikipedia Wikipedia ha un titolo, quindi Wikipedia accederei alla voce in lingua inglese cercando Monte Everest invece in Wikidata tutto ha un identificativo, vedete questo Q, questa è la cosa più piccola della pagina ma è la più importante, abbiamo scritta piccolissima ma questo Q513 identifica l'elemento Monte Everest in questo database punto è il nome dell'item, esattamente, è proprio l'identificativo che qualsiasi lingua io parli, dico alla persona che amo, guarda vai alla pagina qua, Q513, tac, Monte Everest che è albanese, cinese, italiana, eccetera quindi è il modo in cui si rappresenta in modo univoco un concetto o un soggetto o un oggetto e notiamo già una cosa interessante in Wikidata c'è una parte in cui si descrive questo concetto Q513 con delle etichette quindi in inglese questo concetto lo chiameremo Monte Everest in italiano lo chiamiamo semplicemente Everest ma è anche conosciuto con altri pseudonimi in inglese e anche con altri pseudonimi in italiano sinceramente non ipotizzavo che qualcuno lo chiamasse Sagaramata ma a quanto pare è un termine in cui qualcuno si cerca su Wikidata questo termine arriva al Monte Everest e arriviamo alla parte importante dei dati strutturati cioè le dichiarazioni che Wikidata ha su questo elemento questa è una cosa che lo vediamo meglio con la parte che conosciamo cioè il Monte Everest è alto 8.000 metri ci sarà un blocco di informazioni in cui c'è una proprietà che si occupa di dire quanto è alto e ci sarà il suo relativo valore che sarà 8.000 quindi la cosa interessante appunto di Wikipedia è che si occupa di testo libero di Wikidata di dati strutturati e la cosa interessante è che una volta che una persona ha inserito in Wikidata che il Monte Everest è alto 8.000 metri io ho aiutato, lo vedete qua, ho aiutato 199 voci di Wikipedia in potenzialmente leggere in tempo reale questo dato in modo che questo dato gli metto una fonte una volta poi 199 voci, se vogliono, magari la comunità non vuole leggerlo ma magari sì se vogliono possono leggere questo dato e questo è oggettivamente una cosa veramente utile nei progetti Wikimedia e quando è nato Wikidata era oggettivamente molto complicato capire come diavolo si leggeva una pagina Wikidata perché adesso questa è la scheda invece su Douglas Adams che ovviamente gli abbiamo dedicato un identificatore Q42 siamo riusciti nell'auto increment a mettere tutti d'accordo e fare una pausa al Q41 e a creare al Q42 questo elemento ed è interessante quindi comprendere che a parte il titolo che appunto in realtà non è fisso perché per ogni lingua gli associo un valore anche la descrizione generica gli associo un valore ed è giusto o utile questa descrizione generica nel caso ci fossero più persone che si chiamano Douglas Adams serve solo a quello per capire che magari c'è un Douglas Adams morto nel 1800 e non è questo qua, questo qua è un autore, è comico eccetera e parte interessante il blocco della dichiarazione quindi se vedete questo blocco questa parte qui a sinistra è sempre una proprietà quindi la comunità si mette d'accordo dice ok creiamo una proprietà per salvare il valore di dove ha avuto l'educazione questo soggetto per esempio e quindi viene creata letteralmente questa proprietà e viene dato un nome quindi educato dove e il valore lo vado ad inserire educato al St. John College ma il valore a sua volta ha delle fonti vedete references? questa è la parte più semplice quindi oltre al valore di questa dichiarazione ho le fonti e sono diverse c'è una fonte che dice in effetti l'enciclopedia britannica dice questa cosa poi c'è un altro blocco di fonti vedete composto da quattro righe in cui dice da questo indirizzo ho ottenuto questa informazione questo indirizzo in lingua inglese l'ho preso il 7 dicembre eccetera quindi è interessante capire che queste sono due fonti non otto o una sono due un blocco e due una ha una sola dichiarazione l'altro ne ha quattro molto più precise cosa interessante invece è la descrizione di questo valore cioè quando è che è stato educato in questo collegio? quando è che ha avuto questa educazione qui? l'ha terminato nel 74 cioè non è che è sempre vera questa dichiarazione è stata vera fino al 74 e quando è iniziato ad avere senso questo valore? nel 71 quindi sono tutte cose molto interessanti quindi questo si chiama qualifier questo si chiama reference questo si chiama value e questo property tutto questo è uno statement quindi Wikidata è una collezione di statement a proposito di qualcosa e la parte più interessante è poi come ottenere dati da Wikidata perché comprendiamo che una volta che abbiamo riempito questi dati cioè li vogliamo indietro magari per avere qualche informazione noi umani il modo più efficiente per farlo è imparando lo Sparkle alzi la mano chi sa un po' di SQL un pochino siamo parecchi lo Sparkle è stato inventato da una persona che non voleva inventarsi tutto da zero gli piaceva appunto farsi amici voi e noi insomma quindi fortunatamente la sintassi è molto semplice nel senso nel caso volessi una query generica la struttura più o meno è questa seleziona un valore dove e poi ogni riga di default sono cose in end che si leggono in questo modo ogni riga è praticamente soggetto verbo predicato quindi questa riga praticamente prenderebbe qualsiasi cosa come soggetto che deve avere come predicato questo valore come oggetto ora di per sé questo non ha molto senso come esempio ma io adesso vi faccio vedere un esempio pratico scusate se cambio subito slide questo è un esempio di una interrogazione che seleziona tutti i colori degli occhi contando quanti umani hanno quel colore degli occhi e poi inizia la query prendi una variabile che chiamiamo umano soggetto che è questa variabile che chiamiamo umano deve avere un attributo istanza di umano quindi questa riga praticamente mi aggiunge una limitazione e non mi dà tutto il cerpame di Wikidata mi dà soltanto tutti i soggetti che hanno vera questa che hanno vero questo predicato e questo oggetto quindi in pratica uscirà che non so Barack Obama usciranno tutti gli elementi che hanno almeno una voce Wikipedia perché sono stati infilati in Wikidata o altre persone in più lo stesso umano di prima questa è un'altra riga quindi ogni riga è separata dall'altra lo stesso umano di prima qualsiasi so sia che deve avere vera questa condizione deve anche avere un attributo coloro degli occhi è un po' inquietante ma appunto la comunità di Wikidata ha iniziato a salvare il colore degli occhi delle persone importanti e quindi perché non fare una query e questo valore lo salvi in un'altra variabile quindi è interessante qui abbiamo ottenuto fisso umano no Q5 è il codice umano qui abbiamo ottenuto variabile il colore degli occhi questo è un po' quindi ricordiamo come si legge soggetto verbo predicato soggetto verbo predicato ognuna di queste tre cose può essere una variabile oppure può essere fisso questo è variabile questo è fisso fisso variabile fisso variabile io eseguo la query e lui praticamente in pochissimi istanti mi fa una visualizzazione dei dati presenti in Wikidata sul colore degli occhi più utilizzato più salvato probabilmente non tanto utilizzato negli esseri umani e io trovo che sia una cosa incredibile adesso presentiamo un'altra query un po' più complicata e fra l'altro come faccio io a vedere queste query vi consiglio a tutti a casa di andare a vedere query.wikidata.org query. si si legge che è praticamente l'entry point accessibile a tutti senza registrazione senza niente in cui schiantargli una query Sparkle premere il tasto invio e ottenere una risposta se non va in time out il server perché a volte si fanno domande troppo complicate e appunto ripeto facciamo un passo indietro abbiamo detto c'è la voce sul monte Everest come arriva a Wikidata qui in fondo c'è anche un tastino Wikidata item quindi comunque Wikidata non è così nascosto arriva la voce Wikidata andiamo a vedere il monte Everest per esempio ha una dichiarazione che dice che questa roba è un'istanza di montagna quindi ci sono degli attributi un po' particolari tipo il P31 che si chiama istanza che definisce cosa diavolo è questo Q513 quindi il fatto che io possa dirgli come valore montagna in realtà montagna a sua volta è un elemento Wikidata e qui iniziamo a capire la vastità di questo progetto perché anche montagna è un concetto però generico non è che se parlo di montagna tu sai a quale mi riferisco quindi montagna è una sottoclasse di posto elevato posto elevato e possiamo andare così avanti all'infinito è una sottoclasse di elemento che ha delle coordinate geografiche andiamo avanti così quindi la comunità di Wikidata veramente sta cercando di classificare tutto lo scibile umano in un modo che sia facile poi per noi interrogare quindi presumendo che la comunità abbia già fatto delle cose decenti sul monte Everest abbia già detto che appunto dichiarando che questa è una montagna e che è parte di Himalaya ma che anche Himalaya è un concetto collegato ad altrettante 175 voci Wikipedia eccetera iniziamo a capire cosa significa database e linked data cioè tutti questi dati sono collegati fra loro ed è meraviglioso alla fine arriviamo al punto in cui per esempio facciamo questo esercizio questa è una query di esempio infatti c'è un tasto in questo query.wikidata.org c'è un tasto esempi che è pieno di esempi bellissimi in cui uno può vedere come chiedere tutti i gatti su Wikipedia non so e vedere l'esempio io vi faccio vedere questo esempio qua questo esempio si chiama gli umani nati a New York City quindi iniziamo a vedere che fa una select chiedendo certe cose che adesso andremo a limitare vedremo allora intanto rende variabile il soggetto il soggetto deve essere soggetto verbo predicato il soggetto deve essere un'istanza di umano quindi questa riga inizierà a limitare tutti i 90 milioni di elementi di Wikidata mi darà i tot mila umani che ha Wikidata ripetiamo Wikidata non è un progetto distopico che cerca di schedare ogni singolo essere umano cerca solo di dare informazioni su persone note quindi il colore degli occhi non è andato un wikipediano sotto casa a ottenere questa informazione un giornale l'avrà scritto e quindi una fonte e quindi questo dato ripetiamo questo stesso umano e qui iniziamo ad avere un predicato un po' complicato allora cerchiamo di capirlo questo umano deve avere data di nascita scusate luogo di nascita e barra situato nel territorio amministrativo New York City allora iniziamo a identificare quello che abbiamo capito allora questo sarà un umano perché questa riga sarà vera questo sarà New York City è una costante questa quindi questo umano predicato New York City infatti questo significa questo umano deve avere come luogo di nascita un qualsiasi sotto quartierino sfigato di New York City cioè questa è una sintesi un po' particolare per dire che è un po' come scrivere così semplicemente quindi questo umano deve avere come luogo di nascita New York City però in questo il problema di questa asserzione di questa riga qua fatta così e basta è che veramente troverei solo chi in Wikidata ha come valore sono nato a New York ma magari qualcuno invece ha come valore sono nato in una frazione di New York che ne so nel Queens non lo so e quindi questo è il motivo per cui ci sono tutta una serie di cose per dire no dammi tutte le i territori amministrativi di questo luogo di nascita il cui valore deve essere questo quindi se vediamo certe cose non ci spaventiamo c'è la documentazione disponibile nel menu aiuto leggiamolo e spiega tutte queste cose adesso le abbiamo viste insieme e non ci pensiamo più premendo invio ho fatto un errore non ho idea di cosa ho sbagliato torno indietro ok rullo di tamburi sta guardando 90 milioni di umani nati nel Queens e in altri posti sfigatini io non cambio pagina finché non dà un risultato in tempo reale attenzione in 19 secondi Donald Trump yeah che bello e fra l'altro questa cosa qua li ordina per questa variabile in ordine decrescente che cos'è questa variabile? vediamolo è stata fatta questa riga che dice che la scrive in modo un po' più esteso questo sarebbe la scrittura estesa lo stesso umano di prima deve avere dei collegamenti ai progetti Wikipedia Wikimedia eccetera e questa roba me la salva in questa variabile quindi in pratica poi lui conta per questo numero quindi Donald Trump quanto pare un botto di voce su Wikipedia ed è primo in questo elenco scendiamo e vedremo tutta altra gente nata nel Queens o altri posti sfigati di New York e questa informazione l'abbiamo ottenuta senza registrazione a questo query service e occupando comunque delle risorse abbastanza importanti ed è veramente molto potente questa cosa io posso scaricarmela posso scaricarmi questo dataset in un formato sensato in JSON in TSV il TSV è il formato CSV ma separato da spazi da tab scusate e CSV un SVG e perché no la cosa interessante è che già di default ha un botto di tipi di visualizzazione quindi per esempio io vi consiglio come esercizio di enumerare tutte le tutti gli item che sono istanza di licenza software e poi elencami l'item deve avere una data di pubblicazione e fare provare a utilizzare questo fantastico renderer chiamato non lo trovo timeline che praticamente vi mostrerà su una linea del tempo tutte le licenze software elencate per data di pubblicazione che è una cosa fighissima perché uno magari vede quando è nata la VTFPL prima o dopo insomma uno può vedere tutta una serie di cose assurde e ora scusatemi se faccio un esempio un po' stupido però giusto per fare una query in tempo reale è un po' uncorrect però vi consiglio di per curiosità prendere tutti gli umani che come occupazione ripeto questa cosa è una cosa che la fa Davide Allavena ogni talk quindi la ripeto come lui che secondo me è una cosa molto interessante tutte le persone che hanno come no preferisco non dirla perché secondo me mi denunciano comunque Wikidata contiene veramente un botto di cose su molte persone anche il lavoro delle persone quindi è possibile che delle persone prima abbiano fatto qualcosa di un po' tremendo e poi si sono diventate politiche magari in Italia e voi potete anche fare queste interrogazioni comunque ottenendo un sacco di dati molto interessanti che durante le politiche amministrative non sono neanche troppo male ma che non citeremo oggi che ho cambiato idea e non lo farò in diretta dettociò di per sé è veramente interessante come appunto Wikidata sia un database che al momento se ve lo volete scaricare credo sia nell'ordine dei 5 terabyte una cosa del genere e poi vi servirà tipo una cosa come 3 mesi di computazione per importarli in un qualcosa di sensato quindi io vi consiglio di usare il query service senza scaricarvi tutti questi dati in locale se volete interrogarlo e poi per carità se siete un grosso service provider e volete fare robe strane senza che lo sappia Wikidata.org scaricatavelo però conosco uno che lo sta facendo sta spendendo tutti i suoi risparmi per i costi server non ha senso gli crash all'importazione dopo due mesi di esecuzione è una cosa abbastanza triste però in ogni caso per ogni problema voi andate su messaggistica estantana cercate Wikidata e c'è un gruppo anche su Telegram dedicato a questa community questo gruppo è linkato anche da Wikidata.org o comunque adesso se mi scrivete in privato Bozzi io sono questo che ho c'è la Bozzi mi invitate un attimo esce roba strana e io vi faccio invitare in questo gruppo Telegram è molto carino perché insomma se uno ripeto consiglio solo di usare Telegram se ce l'avete già e magari scaricato da FDroid così usate il software libero ripeto perché consiglio questa cosa perché uno entra qua e gli chiede come si fa questa cosa dove trovo il fatto che come mai quando cerco dove diavolo sono le destinazioni nell'aeroporto di Antwerp che non ho idea di cosa sia premo play e mi va in time out invece che farmi vedere una mappa queste cose capitano uno può andare nel gruppo e ti spiegano no guarda è meglio aspetti 5 secondi perché sta andando a fuoco il server di Wikidata che troppe persone stanno cercando questi aeroporti queste destinazioni e boh di per sé io ho finito qua domande benvenute in caso di qualsiasi cosa personale la mia mail è questa qui io sono Valerio Bozzi su Telegram non c'è nessun problema a scrivermi anche alle due di notte tanto al massimo non leggo e rispondo il mattino dopo e boh grazie la domanda la domanda è questa se quando si accede a Wikipedia quindi si chiede di visualizzare una pagina di Wikipedia i dati vengono per visualizzare dei dati vengono selezionati da Wikidata oppure no se sono già precompilati in qualche modo sono estratti prima in un altro momento grazie ecco questa è una domanda spinosa che non ha una risposta semplice perché in realtà la comunità di Wikipedia non ha amato da subito Wikidata anche i francesi non hanno amato da subito la Torre Eiffel potresti dire però comunque il fatto sta che al momento molte community non tipo questa lingua qua che sinceramente non saprei neanche il dominio ace.wikipedia.org a me ricordo un succo di frutta scusatevi per la mia ignoranza tipo questa community è un esempio di community che non sta prelevando dati da Wikidata e che ha una struttura molto semplice non ho idea di davvero come dove il tasto modifica in questa pagina però è proprio testo semplice e non prende dati da Wikidata altre community invece qui sopra hanno delle cose scritte un po' così vedete con delle graffe queste cose sono dei template e in Wikipedia è possibile fare tutti dei software veri e propri che al caricamento della pagina fanno delle cose interrogano Wikidata e spalmano l'informazione qui e lì o nei box che ci sono a destra o a sinistra quindi se voi siete programmatori lua in particolare potete aiutare la community del vostro dialetto preferito per esempio il Veneto che cerca sempre un sacco di volontari per migliorare i template sui musei per esempio affinché nel museo le coordinate se non ci sono siano prelevate da Wikidata se non ci sono nella voce e cose così queste cose assolutamente si possono fare proprio a livello di sviluppo software direttamente dentro il progettino Wikipedia ma è una cosa che deve decidere la singola community in questo modo hanno fatto contento di tutti in senso che chi non vuole questi dati centralizzati non li usa chi li vuole invece usare quando non ci sono localmente li usa chi in voce vuole a tutti i costi usare solo quelli centralizzati va benissimo ancora meglio eccetera il problema è che appunto molte voci Wikipedia si sono un po' lamentate perché appunto un conto avere una cronologia in cui adesso io sul monte Everest vi invito ad andare in cronologia e se siete un utente di Wikipedia in lingua inglese sapete che ogni persona che modifica viene registrata per sempre e se modificate poi le modifiche successive ricevete una mail che sono scritto un altro ha modificato questa cosa introducendo Wikidata è chiaro che allora dovrò tenere d'occhio due posti quindi è anche per quello che la comunità non ha visto subito così bene questo progetto perché comunque dovevi cioè ok mi hanno cambiato qui il testo ma qui mi hanno cambiato l'informazione e quindi bisogna un attimo non è stato un progetto veramente ben visto e ancora adesso comunque si sta pian piano progredendo verso mettere i dati là dentro soprattutto dove non ci sono localmente grazie per la domanda grazie per la domanda grazie per la domanda grazie per la domanda